Giornata di festa a San Sebastiano per la polizia locale. Anche a Bustarsizio gli agenti, che sono ancora troppo pochi rispetto a città analoghe come Varese e Como, come ha ricordato alla vigilia della ricorrenza l'assessore Salvatore Lo Schiavo, hanno celebrato il Santo Patrono e lo hanno fatto in grande stile. Guidati dal comandante Stefano Lanna, giunto in città nel 2023, dalla sede dei Molini Marzoli si sono trasferiti nel centralissimo santuario di Santa Maria. Gran finale con lo schieramento in piazza Vittorio Emanuele II per la benedizione di uomini e mezzi da parte di Monsignor Severino Pagani.